Dunque, argomentiamo oggi, sempre in inferimento alla prima parte, sul trattato relativo all'essenza di Dio, dopo aver considerato la perfezione di Dio l'infinità di Dio. L'infinità di Dio conviene alla sua perfezione oppure non conviene? Nel proemio a questa questione, che è la questione 7, Tommaso presenta l'argomento che è l'infinità e poi l'argomento successivo che sarà trattato nelle questioni successive, cioè la presenza di Dio nelle cose. In riferimento al fatto che Dio sia, secondo Tommaso, infinito o finito, la questione 7 si dipana in quattro articoli, che sono questi. Noi questa sera ne affronteremo due. Sembra che Dio non sia infinito. E' chiaro che per Tommaso Dio è infinito, ma direi che per quanto riguarda questo articolo è opportuno, poi può darsi anche che mi sbagli come procedimento, perché in riferimento alla didattica e all'insegnamento del latino, dell'italiano, della storia, della filosofia, io ho delle idee molto chiare, ma affrontare un'opera così, articolo dopo articolo, complessa, me l'hanno già fatto notare in molti, pochi, evidentemente, sono quelli che vogliono, hanno la pazienza, oppure anche solo riescono a seguirmi, bisognerebbe avere delle idee chiare sul modo di esporre, nel modo più adeguato, diciamo, questi argomenti. In questo caso, ad esempio, prima di affrontare l'argomento 1, 2, 3, l'argomentazione che vuole sostenere che Dio è finito, perché la finitezza compete alla perfezione, io partirei dal set contra e dalla presentazione di Tommaso. Nel set contra ci si rifà ad un'affermazione di Damasceno che dice Dio è infinito, ed è evidentemente il pensiero di Tommaso, eterno e incircoscrittibile. Dunque, il problema è a monte, e viene riferito dallo stesso Aristotele. Tutti i filosofi più antichi attribuiscono l'infinità al primo principio, però, ponendo le cose in questa prospettiva, nascono diversi problemi. Perché? Perché i filosofi antichi concepirono il primo principio come materia. Talete, Nassimando, Nassimene, o l'arga, o l'acqua, o la peiron, questo indistinto. Poi è vero che molti critici hanno provato a ipotizzare una cosa alternativa, che questa materia non fosse da intendere che aria, acqua e fuoco non debbano essere intese in modo materiale, ma, insomma, le ipotesi sono tante, però, per lo più, nei secoli, queste materie, questi principi primi, e non sono sempre state considerate in materiale. Eraclito parlava di fuoco, una fiammella presente in tutti gli enti. Poi arrivarono a Impedocle e a Nassagora, e a Nassagora ebbe un intuito interessantissimo. Impedocle parlava di amore e odio, cioè la composizione di questi elementi, composizione. e a Nassagora aveva concepito un'quantità enorme di particelle che possedevano già delle qualità intrinseche, quindi particelle ora di sangue, ora di legno, ora di rame, ora di ferro, ora di ossa, che poi entravano a costituire i vari organi e i vari organismi. Quindi una materia prima. Questa materia prima venne poi adottata da Aristotele come materia non sussistente, ma una materia che potenzialmente è aperta a accogliere le varie forme. Vediamo di leggere cosa ci dice Tommaso. Ma siccome alcuni errarono intorno alla natura del primo principio, conseguentemente errarono anche intorno alla sua infinità. Ritenendo infatti che il primo principio fosse materia, la materia viene ad essere limitata dalla forma e la forma dalla materia. Allora, il problema di fondo è proprio questo, l'abbiamo detto, primo principio materia. Però nella prospettiva di Aristotele materia e forma entrano in composizione e quindi la materia non si può intendere in modo assoluto e tantomeno la forma. E si condizionano a vicenda. Quindi non possiamo concepire una materia infinita o una forma infinita. Nel momento stesso in cui la materia con le sue infinite possibilità accoglie una forma, viene determinata e se viene determinata non può prendere altre forme. La stessa forma, ad esempio la forma di umanità, viene condizionata dalla materia e in questo condizionamento assumerà il nome di Paolo, di Luigi, di Giacomo e Paolo non è Luigi, Luigi non è Giacomo e perde tutte le altre possibilità. Perciò, se di infinità si può parlare in questo caso, è solo di un'infinità potenziale. Vedete cosa dice? La materia è limitata dalla forma in quanto che la materia, prima di ricevere la forma, è in potenza a molte forme ma dal momento che ne riceve una, da quella viene delimitata. La forma poi è limitata dalla materia da che è ricevuta nella materia diventa forma soltanto di una data cosa, di un determinato ente. Abbiamo detto Paolo, Filippo, oppure il pino, l'abete, questo pino, questo abete. Perciò, l'infinito attribuito alla materia racchiude l'idea di imperfezione, perché priva di forma, perché è come una materia senza forma. La forma invece non viene perfezionata dalla materia ma ne riceve piuttosto la restrizione della sua ampiezza illimitata. Ora, visto che forma da sola non esiste e materia da sola non esiste, è evidente che in tutto il resto o al di fuori di Dio non si può concepire nulla che sia infinito. Quindi l'infinito che si attribuisce alla forma non delimitata dalla materia importa essenzialmente perfezione. La riflessione che ho a testè è considerato è una considerazione che più che altro dovrebbe servire per l'articolo successivo. Qui insiste invece Tommaso sul fatto che la forma che non viene delimitata dalla materia ci dà la sicurezza della perfezione. Ora, tutti gli enti che esistono in questo mondo sono costituiti di materia e di forma mentre l'unico a non possedere la materia perché è pure essenza e quell'essenza che implica l'esistenza rimane Dio. Ecco quindi che questa è la scelta e la spiegazione di Tommaso. Guardiamo adesso le argomentazioni che vorrebbero sostenere il contrario. Ogni infinito è imperfetto perché racchiude l'idea di parte e di materia come dice Aristotele ma Dio è perfettissimo dunque non è infinito sì, d'accordo però Dio non contiene l'idea di materia Dio è l'essere perfettissimo quell'essenza che implica l'esistenza non contenendo la materia non cade sotto questo sotto questo esempio questa definizione. Seconda argomentazione secondo Aristotele finito ed infinito si dicono della quantità ma in Dio non c'è quantità perché non è corpo come si è visto sopra dunque non gli compete l'infinità ma proprio perché non è corpo non ha nulla a che vedere con la quantità. Ritorniamo all'argomentazione di prima ma infatti dice quindi l'infinito che compete alla quantità è un infinito di ordine materiale e tale infinito non si traduisce a Dio come si è detto. Quindi anche a questa osservazione non sta in piedi. Poi c'è l'argomentazione 3 che rifacendosi un po' alle riflessioni di Parmenide dice Dio non è pietra né legno dunque Dio non è infinito nella sua essenza perché pietra e legno limiterebbero la sua infinitezza ma pietra e legno di nuovo ci troviamo con degli enti composti di materia e Dio non è materia quindi Dio essendo un'essenza pura non può essere limitata da ciò che è materia. La materia limita la materia e non può la materia limitare una essenza che sussiste di per sé come abbiamo già visto negli articoli precedenti. Nell'articolo 2 invece vi detur che qualche altra cosa oltre Dio possa essere infinita per essenza. Secondo me già con le argomentazioni dell'articolo primo è chiaro che ci porta la riflessione le riflessioni la serie di riflessioni precedenti a sostenere che non c'è null'altro di infinito oltre a Dio tuttavia Tommaso è molto preciso e riprende di nuovo questo argomento qui partiamo dalle argomentazioni se l'essenza di Dio è infinita necessariamente anche la sua potenza infinita può dunque produrre un effetto infinito non è proprio così spiega Tommaso l'essere sussistente come Dio non è un essere creato Dio nonostante abbia una potenza infinita non può creare qualche cosa di increato perché vedete qualcosa che viene creato è perché si trovava nella condizione di potenza e qualcuno l'ha portato all'atto ma allora a questo punto ha gli attributi della creatura dell'ente e perciò non può avere le condizioni dell'essere increato entriamo nella contraddizione no chi dalla potenza è portato all'atto è creato e come potrebbe una cosa creata essere increata entriamo nella contraddizione quindi questa argomentazione non sussiste andiamo alla seconda tutto ciò che ha una capacità infinita ha un'essenza infinita ogni sostanza intellettuale creata è infinita attenzione sostanza intellettuale creata noi abbiamo l'anima che ha una capacità intellettiva ma non esiste la sostanza intellettuale stiamo confondendo tra sostanza e capacità di questa sostanza vediamo la seconda argomentazione la capacità dell'intelletto è una facoltà intellettiva che non è atto di un organo materiale come nel caso dell'anima intellettiva congiunta al corpo perciò non essendo atto di un organo materiale è evidente ma è semplicemente una facoltà non è sussistente come facoltà non è sussistente e perciò se non sussiste come sostanza tanto meno può sussistere come sostanza infinita andiamo alla terza la materia prima è cosa distinta da Dio come sopra abbiamo dimostrato ma la materia prima è infinita sì ma è infinita solo nella possibilità materia prima propriamente non esiste nella realtà per se stessa perché se la materia prima come per tal etana simana o nessimana esistesse beh avrebbe già una forma perché noi la potremmo individuare e dire guarda quella lì è la materia prima non esiste è semplicemente una potenzialità che non ha atto fino a che non viene informato da una forma ma nel momento in cui viene informato dalla forma questa infinità potenzialità infinita viene meno anche secondo la potenza non è infinita in senso assoluto ma in un senso relativo perché la sua potenzialità non si estende che ha le sole forme corporee per cui se la forma non informa la materia prima la materia prima non ha sostanza rimane nella sua pura è semplice potenzialità ecco detto questo set contra secondo Aristotele l'infinito non può derivare da causa alcuna l'abbiamo detto più di una volta perché nel momento in cui dovesse derivare da causa alcuna vorrebbe dire che ha una potenzialità che è stata portata dall'atto e dunque se ha una potenzialità non ha l'intrinseco l'intrinseco attributo dell'infinito vediamo l'argomentazione di Tommaso oltre Dio ci può essere qualche cosa di infinito in senso relativo ma non in senso pieno e assoluto vediamo in che cosa consiste questo senso relativo ad esempio parliamo dell'infinità che compete alla materia ne abbiamo già detto più volte ma questa infinità non si può attualizzare tutta si attualizza solo nel momento in cui viene informata infatti con questo esempio che può rendere maggiormente chiaro il pensiero comprendiamo che cosa intende Tommaso un tronco di legno per la sua forma sostanziale è indubbiamente finito ma tuttavia è relativamente infinito in quanto è in potenza a prendere sotto le mani di un artista innumerevoli figure però ne prenderà poi una figura infinite relativamente un'infinità relativa perché insomma non penso che un artista possa avere mille figure o immagini per attuare da concretizzare in quel pezzo di legno ma ammettiamo pure che siano infinite queste queste forme queste figure tuttavia in atto questo pezzo di legno di figura ne prenderà una sola attenzione a non cadere nell'errore un tronco di legno non è la materia prima priva di ogni forma questo ogni esempio a claudicant tutti gli esempi zopicano il tronco di legno ad libitum viene preso come esempio di materia prima ma il tronco un tronco di legno è già un ente ben definito 2A se poi parliamo dell'infinità che appartiene alla forma allora è chiaro che quelle cose le cui forme sono unite alla materia sono sostanzialmente infinite e in nessun modo infinite di questo argomento abbiamo detto nell'articolo precedente nel momento in cui la forma informa la materia viene definita nel momento stesso in cui la forma con la materia essenza viene portata all'esistenza e quella non può essere altrimenti è definita e quindi non può assolutamente informando la materia dare origine ad alcun ente infinito però è vero che esistono delle forme create non unite alla materia qui viene fuori l'argomento delle sussistenze angeliche dunque anche Aristotele aveva concepito delle forme pure però questo è un argomento che sarà trattato da Tommaso in modo adeguato molto più avanti qui si limita semplicemente ad accennare alcune cose che però viste così in questo contesto direi non sono sufficientemente esaurienti Tommaso dice tali forme non sono limitate né coartate da materia alcuna e quindi potrebbe andare bene poi si lancia ad una affermazione che verrà poi spiegata molto più avanti ma siccome una forma creata così sussistente possiede l'essere è necessario che il suo essere venga ricevuto e sia ristretto entro i limiti di una determinata natura e sarà poi la natura angelica cioè Tommaso qui anticipa un altro argomento e ci fermiamo qui senza aggiungere altro afferma sostiene è vero queste forme non hanno bisogno di materia sono forme pure ma visto che vengono create in un particolare contesto ecco anche il loro essere ha un essere ben definito e ben determinato però voi capite che l'ultima affermazione che questa che il suo essere venga ricevuto e sia ristretto entro i limiti di una determinata natura verrà poi provato in un secondo momento quando Tommaso tratterà delle nature angeliche